Sarà un'estate ricca di appuntamenti per i vietresi nei giorni scorsi, la presentazione del cartellone che alleterà le serate di turisti e residenti. Vediamo. Primo Ferragosto in strada, non un evento legato al 15 agosto, ma il nome del ricco programma di eventi allestito dal Comune con l'attiva partecipazione delle associazioni Teatrando, Proloco, Liberi Dentro, Agio e Avis Vietri di Potenza, presentato ieri nel cortile del locale Ex Municipio. Il programma avrà inizio l'8 agosto con l'inaugurazione della prima radio estiva e proseguirà dal primo al 15 con un percorso enogastronomico caratterizzato da quattro location di spettacolo permanente con esibizioni di artisti di vario genere, da Marco Cristi ad Enzo Fischietti fino alle cover ufficiali di Vascorossi e Pink Floyd. Il primo Ferragosto in strada si chiuderà poi con il primo autoraduno vietresi organizzato in collaborazione con il club Lucano Basileus di Muro Lucano. Il sindaco è un ferragosto ricco di eventi e soprattutto condiviso. Sì, sì, veramente condiviso anche perché insomma qui a Vietri esistono risultati, ci sono molte associazioni e per la prima volta insomma siamo riusciti a farli lavorare insieme. Per me, per noi, per l'amministrazione questo è un grande passo avanti perché si vede proprio che quanto c'è la buona volontà di tutti si riescono a lavorare anche insieme pur avendo programmi e vedute diverse. Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.